Noi amiamo le sfumature perché raccontiamo ogni giorno attraverso la differenza appunto fra le descrizioni che fanno i giornalisti e i giornali delle vicende e quelle che sono appunto le varie possibilità di poter interpretare le cose, eppure ci sono delle questioni su cui le sfumature non ci debbono essere probabilmente, se vado a comprare le sigarette, se pago la corsa del taxi per andare a trovare un amico o un parente all'ospedale, spendo quasi sicuramente meno di 60, certamente meno di 30 Euro e insomma questo conta fino a un certo punto, dobbiamo scegliere probabilmente da che parte stare, se utilizzare un sistema che evidenzia e incoraggia un certo giro di denaro contante oppure scegliere la moneta elettronica come hanno fatto già moltissimi paesi nel mondo, non è una questione di 60 o 30 Euro, vedrete che alla fine finirà così, con le trattative, con l'Europa che spinge, con Banca Italia che oggi troviamo appunto sui giornali che riprende appunto il governo su questo, si arriverà a un compromesso, la soglia sarà 20, sarà 40, però conta poco, la verità è che qua le sfumature probabilmente non ci debbano essere se si vuole fare una vera scelta di campo, anche di questo parliamo oggi a Prima di Tutto. Questo programma è offerto da Nigro Costruzioni, creiamo spazi, costruiamo il futuro, www.nigrocostruzioni.it Confcommercio Pistoia e Prato, scopri vantaggi di essere socio. Buongiorno, bentornati a Prima di Tutto, la rassegna stampa ragionata di TV Prato, oggi saluto appunto il regia Sandro Pettorali e qui in studio noi miester romani e vi anticipo che fra pochi sei minuti c'è ospite, un ospite con cui possiamo fare una puntata molto frizzante, il Presidente di Alia Nicola Ciolini, possiamo chiedergli diverse cose che ci sono proprio all'orizzonte, non escludo notizie, almeno così spero, però partiamo da Repubblica, assalto a Banca Italia, questa è la notizia che domina tutti i giornali quotidiani, ve ne ho parlato all'inizio, la manovra di Meloni bocciata alla Via Nazionale, Via Nazionale è un sinonimo appunto di Banca Italia e la sede di Banca Italia, POS, flat tax e misure sul contante, questo è un virgolettato, in contrasto con PNRR e lotta all'evasione, questo è appunto l'evidenza di Banca Italia, la cui indipendenza nota come ente di vigilanza è messa in ombra o in difficoltà o in dubbio dal sottosegretario appunto di Giorgio Meloni Fazzolari che dice esprime interessi delle banche, parlando di Banca Italia, quindi è qui lo scontro vero, è qui il senso del titolo assalto a Banca Italia che leggiamo sul quotidiano guidato da Maurizio Molinari, la strategia di Palazzo Chigi è rispondere colpo su colpo, c'è anche questo sottotitolo di cui parleremo, corruzione, Nordio, impunità per chi paga mazzette e collabora, sapete Nordio, Ministro della Giustizia da sempre garantista e insomma quello che vorrebbe fare è aprire un fronte sulla corruzione che boccia la legge Severino che abbiamo appena conosciuto anche come attivazione, guardiamo in particolare qualcosa di quello che affronta Repubblica su questo tema, bocciato da Banca Italia il governo appunto attacca interessi privati, appunto l'articolo di Valentina Conte che ci racconta di questo scontro che è nato ieri e che probabilmente è destinato ad essere una polemica anche nei prossimi giorni, c'è anche un racconto di Filippo Ceccarelli, la penna politica di Repubblica che dice le mani della politica su via nazionale, quel vizio antico da Craxi a Tremonti, ve lo consiglio, è un riepilogo degli scontri fino ad arrivare insomma agli ultimi che hanno riguardato anche Matteo Renzi, il PD, il Ministro Padoan, ancora in primo piano questa questione con la reazione però da parte del governo, appunto stufa delle critiche Meloni sì alla linea dura ma cede al ritiro sul posse, vi abbiamo già detto quanto era necessario su questa partita, comunque vi leggo qualche riga che riguarda il governo perché è giusto anche riportare quella che è la strategia del governo qui raccontata da Repubblica, l'ordine è partito da Giorgio Meloni, scavare trincee, alzare barriere e replicare colpo su colpo perché la Premier è già stufa e stufa è tra virgolette, lo dico per chi non può leggere e ascolta il podcast, degli attacchi al suo governo, quelli di Banca Italia, quelli che potrebbero arrivare dall'Europa, quelli già resi pubblici dalle parti sociali, stanca di finire nel mirino visto che guida il Paese da poche settimane, questo è il sentimento, il senso dell'assedio permanente, la linea di Giovanni Battista Fazzolari insomma è la sua, lascia solo che sia il suo sottosegretario a pronunciare quelle parole di fuoco però perché a farlo in prima persona appiccherebbe un incendio istituzionale devastante, questo è insomma il racconto del retroscena anche della strategia di Giorgia Meloni, quello che vi dicevo nel sottotitolo di Repubblica è invece a pagina 9 e Nordio, inutile leggi sulla corruzione, diamo impunità a chi paga e collabora, c'è anche un intervento di Cantone su questo magistrato che è contro, però vi leggo di cosa si tratta questa proposta, farà discutere anche questa perché è abbastanza dirompente, dopo l'abuso d'ufficio e la legge Severino che i sindaci detestano, adesso il guardasigilli Carlo Nordio vuole buttare nel cestino anche il parterre delle norme sulla corruzione, da mani pulite in poi, perché dice lui e vi leggo il suo virgolettato, il potenziale corruttore non va intimidito ma va disarmato e inasprire le pene e creare reati non serve assolutamente a nulla, bisogna solo fare in modo che il potenziale corrotto collabori, peccato che come gli fa notare qui su Repubblica l'ex Presidente dell'ANAC che è l'autorità anticorruzione ovviamente, Raffaele Cantone, questa norma già esista ma non ha avuto effetti, effettivamente sotto c'è Cantone che fa un intervento su questo tema, il titolo è la norma c'è già, ma non ha dato risultati, il reato è grave, le pene restino, è un'intervista di Liana Milella che accende questa disputa, vedrete se ne parlerà nei prossimi giorni, già che ci siamo continuiamo con la politica su Repubblica, Lega, voglia di scissione in Lombardia, ribelli con Moratti per indebolire Salvini, ieri cosa è successo? Ci sono stati alcuni congressi al nord della Lega e per la prima volta dopo molti molti anni i candidati di Salvini hanno perso in alcune delle province, anche in quella di Varese se non mi ricordo male che economicamente vale molto per la Lombardia. Ancora un caso che riguarda Prato, stavolta si accendono i fari della CNN su una questione di cui abbiamo già parlato, 100 stazioni di polizia segrete per controllare i cinesi nel mondo, 102 stazioni di polizia in tutto il mondo, 11 in Italia fra Prato, Firenze, Milano, Roma, Bolzano, Venezia e la Sicilia, un'indagine che va avanti da circa un anno della nostra intelligence per capire esattamente che lavoro svolgono, perché in tutti gli atti ufficiali è scritto che gli uffici che la Cina ha aperto in tutto il mondo, ma in Italia più che altrove servono soltanto a velocizzare pratiche burocratiche. Questo insomma ritorna, c'è l'eterno ritorno di questa questione delle stazioni di polizia cinesi, vedremo quanto c'è di vero in tutto questo. Io mi permetto ancora una volta di dire che se i cinesi o comunque il governo cinese vuole controllare l'Italia, forse ha altri metodi, in cui loro sono anche parecchio bravi, però vedremo come va a finire, magari è veramente così e vedrete che fa capolino questa storia anche sugli altri giornali, velocemente passiamo alle prime pagine e in particolare al Corriere della Sera, manovra, gelo di Banca Italia, ne abbiamo già parlato, raid sul territorio russo, colpiti aeroporti militari e Putin visita la Crimea, ieri questa visita davvero particolare del leader russo che ha attraversato il ponte in macchina che porta verso la Crimea, anche ovviamente un atto simbolico, ho isolato per voi molto velocemente la Corriere della Sera questi due articoli, l'esorcismo anticorrenti dei candidati alla segretaria PD, ma le cordate già si schierano, di questo magari parliamo anche con Nicola Ciolini fra poco, vediamo cosa ne pensa lui di questo momento anche del PD di rifondazione, calenda obiettivo Forza Italia, la stiamo svuotando, che questo è un altro tema, il tema del centro a cui magari si fa poco caso, ancora dagli esteri del Corriere della Sera, gli aiatollà impiccheremo i dissidenti, Alessia Piperno denuncia la mia compagna di Cella Teran, madre di tre figli, condannata a morte, sapete Alessia Piperno, la ragazza che era stata incarcerata dopo le proteste, quindi un allarme che rimane ancora molto grave. Ancora la rivoluzione lavorista via il Lorde del Parlamento, è una promessa elettorale del leader Starmer che ha precisato che non è progetto di rientrare nel lui se vincono i Labour. Ancora l'ultima notizia del Corriere della Sera, perché ve la facciamo vedere per tanti motivi, intanto perché di spettacoli è sempre bene parlare, anche se sono concorrenti diretti e facciamo sempre la battuta, è proprio questo il punto, anche Fiorello insiste su questa fascia oraria del mattino, ieri è cominciato Vivarai 2, anche con battute su Meloni, Renzi e il PD, non si è risparmiato Rosario Fiorello e anche la notizia, la novità è questa, che la giornalista Francesca Fagnani sarà una delle conduttrici del Festival di Sanremo, avrete sicuramente imparato a conoscerla a Belve. Andiamo ancora avanti con le prime pagine, passando la Toscana velocemente e in particolare il Corriere Fiorentino, ancora rincorsa PNRR, 88 gare in 40 giorni, Nardella a Firenze, nei ritardi, nei carenze di fondi, poi attacco anche il governo, non usi alibi, dice Nardella che Firenze è in tempo in questa gara, in questa corsa contro il tempo, dobbiamo consegnare, rendicontare tutti i progetti, rendicontare vuol dire che prima le cose sono state fatte nel 2026, chi ci crede e chi spera è davvero ottimista, mettiamola così, in questo paese, almeno così dicono i numeri, ancora un'altra notizia importante, dal rinvio e rinvio, ancora un anno senza la specola, purtroppo dal 1 settembre 2019 il Museo naturale della specola in via romana, a Firenze tutti lo conoscerete e se non lo conoscete sarebbe il caso di visitarlo, purtroppo non è possibile perché è chiuso temporaneamente una chiusura di rinvio in rinvio che si proterrà per almeno un altro anno, ci dice il Corriere, Repubblica Firenze, l'appello appunto del malato di sclerosi, aiutatemi a morire a casa mia, Massimiliano 44 anni, faceva il manutentore sulla costa toscana, ora lancia il suo messaggio attraverso l'associazione Luca Coscioni, mi sento intrappolato in un corpo che non funziona più, questo è l'appello che viene lanciato proprio per quanto riguarda questo malato di sclerosi, ancora la palla del Verrocchio va in tour, parte degli uffizi, la sua riscoperta, ci dice Repubblica Firenze, ma scendiamo a questo punto ancora più sul locale, col Tirreno, Firenze, Prato Empoli, il memoriale di Auschwitz fra i rifiuti, una notizia veramente terribile perché parla delle impalcature pancali sparsi, vetrate, Antonio Passanese ci racconta come il retro dello spazio X3 a Gavinana sia una vera e propria discarica, quello sarebbe il memoriale di Auschwitz ed fa ancora più male sapere che luoghi che sono importanti per la memoria siano bistrattati in questo modo. Fipi lì, alt al cantiere, da domani lavori sospesi per le festività natalizie tra Empoli Este e Montelupo, ripartiranno il 9 gennaio, c'è da dire grazie al cielo perché speriamo sempre, noi che abitiamo in Toscana, che quella strada rimanga possibilmente libera per muoversi perché è un po' complicato muoversi in quella direttrice, lo sanno tutti anche la regione che sta cercando di metterci una pezza, forse pezza non è la parola giusta perché non serve solo quello, di pezzi d'asfalto ce ne mettono tante ma probabilmente va ripensato quel sistema e di questo ci ha parlato anche Eugenio Gianni quando è venuto qua recentemente, ancora la nazione, pagamenti post, gelo, governo, Banca Italia, ma andiamola a vedere questa nazione di Prato, la prima pagina ci parla di tasse e multe, cose non molto gradite, oggi 3 mila cartelle, però anche di questa notizia, giunta Vannucci verso l'addio, il segretario PD Marco Biagioni non entra, non entra, si intende nel governo della città via alle trattative con Italia Viva e vi facciamo vedere anche questa pagina che ci racconta tutto questo e quindi ci sarebbe l'assessore allo sport che andrebbe verso le dimissioni e probabilmente anche Antonio Longo che vedete nella foto, se non lo vedete ve lo descrivo, ex consigliere comunale del centro-destra da tempo in Italia Viva che sarebbe pronto ad entrare in giunta in caso di dimissioni di Vannucci, ma non è detto neanche che per motivi personali l'assessore allo sport si dimetta. Un Natale con brutta sorpresa ci racconta ancora la nazione, sono in arrivo 3 mila cartelle storie ed era questo il titolo principale, ma anche la nazione di Prato racconta ancora di nuovo con Silvia Bini la questione del posto di polizia cinese che per inciso a Prato sarebbe nei pressi di Chinatown, anzi più che nei pressi a Chinatown, proprio in una traversa di via Pistoiese vicino alle mura della città e noi l'abbiamo visitato, siamo andati, sicuramente non sembra un posto di polizia, però anche queste sono le indagini che dovranno stabilirlo. Andiamo ancora avanti con l'ultima pagina che voglio far vedere della nazione di Prato, Palazzo delle Professioni, boom, di visite, ma anche il PIN, appunto la nostra sede universitaria di Prato, distaccata da Firenze, che compie 30 anni, appunto una festa e una tavola rotonda, vedete la Presidente del PIN nella foto, Daniele Toccafondi. Concludiamo la nostra rassegna stampa con il terreno di Prato, anzi prima di tutto vi faccio vedere le foto per coloro che possono guardare, veramente eloquenti nella notizia di cui parlavo prima di Antonio Passanese, ovvero del memoriale di Auschwitz a Firenze che è trattato come una discarica, dopodiché invece vi faccio vedere anche la prima pagina del terreno di Prato che parla del giro del mondo in 500 paesi, Santa Trinità è la food street, dalla Spagna alla Thailandia, ora la Sicilia, presto il Perù e insomma Maria Lardara ci racconta come quella strada che i pratesi conoscono molto bene, si è diventata veramente la strada dei ristoranti e anche delle cucine etniche, insomma in un lasso di tempo relativamente breve, un lustro probabilmente, forse qualcosa di più da quando si discuteva se dovessero esserci oppure noi kebab in quella stessa via, ora è diventato un posto veramente multietnico, anche ovviamente Paolo Lencioni ci racconta dei nuovi fari del Guardian e della CNN su appunto il posto di politica cinese e una task force per recuperare l'Atari è l'altra notizia che ci racconta il terreno e appunto l'ultima notizia invece che volevo farvi vedere è questa riguarda la cronaca annegata in piscina, c'è l'udienza, insomma si parla appunto di Sofia Berknoff morta a 12 anni nella piscina del bagno Texas a San Marina di Pietrasanta e c'è oggi l'udienza in tribunale che dovrà esaminare le posizioni delle 8 persone per cui la procura di Lucca ha chiesto il rinvio a giudizio, veramente insomma una questione che ci rattrista ovviamente, però insomma dobbiamo seguire la vicenda giudiziaria, infine Belgiorno il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale che lancia l'allarme sui pannelli del Santo Stefano, che cosa è successo? Ve lo dico prima ancora di mandare alla pubblicità, è successo che c'è un'inchiesta, un'inchiesta della procura della Repubblica di Milano su una torre, un palazzo che è andato a fuoco a Milano insomma lo scorso anno, in questa inchiesta sono emersi appunto delle disfunzioni, i pannelli solari utilizzati dalla ditta che aveva costruito quel palazzo, dove li ha usati quei pannelli la ditta? Secondo la procura li avrebbe usati in altri 20 palazzi in tutta Italia, 4 di questi sono i nostri ospedali, insomma quelli costruiti dalla giunta guidata di Enrico Rossi e quindi anche quello di Prato e quindi insomma c'è da fare una verifica e ovviamente il Ministero dell'Interno, i Vigili del Fuoco si sono già attivati, tra poco ci saranno le risposte di tutto questo e di molto altro, parleremo subito dopo lo spot con Nicola Ciolini. Stanchi di cercare un parcheggio per il vostro shopping? Siete in ritardo per la cena in centro con gli amici? Niente paura, parcheggiare al Serraglio è come essere già in centro! Parcheggio del Serraglio, 400 posti al coperto, moderno e sicuro, per auto, moto e bici, tariffa giornaliera a 6 euro, tariffa notturna a 1 euro, aperto 24 ore. Parcheggio al Serraglio, il tuo parcheggio in centro. Restaurare il tuo condominio o sostituire la caldaia? È semplice! Montebianco Costruzioni! Montebianco Costruzioni applica direttamente in fattura il bonus facciata e il bonus caldaia. Per un preventivo gratuito contatta Montebianco Costruzioni a Montemurlo. Montebianco Costruzioni.com Offerta valida per i condomini Era un colpo perfetto! Avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui! Mi definivano abile, scaltro, infallibile! E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò! Potete stare tranquilli voi, comprato poi! Non è un caso che siano professionisti della sicurezza! Studi medici Esthetic Medical Care, nuova sede in via Udine 56. Nuovi servizi Gastroscopia da 115 euro Coloscopia da 145 euro TAC da 110 euro Mammografia da 80 euro Risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 130 euro Macchinari all'avanguardia, massimo comfort per il paziente Nessuna lista d'attesa, convenzionati con le principali assicurazioni sanitarie Esthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco Prato all'anno Siamo da 30 anni al vostro servizio Presenti su tutto il territorio E reperibili 24 ore su 24 I nostri impianti sono tutti certificati Prato all'anno Sicuro e meglio Siamo a Prato In via Curtatone 16 Telefono 0574 25965 Ancora buongiorno a tutti voi che ci seguite, bentornati a prima di tutto nella seconda parte in cui approfondiamo le notizie Oggi sono veramente contento di avere con noi una persona che insomma al di là della sua carica si può parlare con lui di tutto Quindi sono felice di avere il presidente di Alia, Nicola Ciolini Buongiorno Buongiorno, grazie Grazie di essere con noi Ciolini Senta, ho detto che si può parlare di tutto quindi parliamo subito di calcio Presidente di Alia, poi magari parliamo anche di quali sono le tappe del futuro Forse, chi lo sa, Alia sarà l'unica che rimarrà dopo la creazione della Multi Utility Beh, questo ne parliamo tra poco Però prima di tutto volevo far vedere, già che non l'ho fatto vedere, fare una cosa diversa La prima pagina della Gazzetta dello Sport Cioè partiamo dalla fine, di solito si lascia sempre in fondo Però ieri abbiamo visto un Brasile eccezionale Sta guardando i mondiali lei? Sì, un po' sì Insomma, ieri ha vinto 4 a 1 il Brasile Sì È stata una partita molto interessante Quindi li guarda anche senza l'Italia Sì, sì, sì E invece questo forse è una notizia che la riguarda di più Perché chi faceva affari con la signora La signora e la Juve Sappiamo che Ciolini è tifoso della vecchia signora Quindi anche Atalanta, Sassuola e Udinese Nella galassia della Juve di Agnelli Sai, si parla di... È un momentaccio Infatti da tifoso come si vive questo momento? No, sento, da tifoso sì Io seguo, non so, ho sempre tifato Juve Però, insomma, sicuramente questo è un momento che credo avrà conseguenze pesanti Mi sembra di capire, insomma Il rischio che anche della Serie B credo che sia... Impronunciabile, però, insomma È impronunciabile, però, insomma Quello che... Beh, una volta l'avete già fatto Ma sì Siete risaliti, siete risaliti Esatto, ci hanno vinto 10 scudetti Eh sì, esatto Quindi, voglio dire... Però, insomma, è chiaro che comunque va fatto chiarezza su quello che succede Insomma, uno dei problemi per cui l'Italia non è neanche... non è mondiale Credo sia anche colpa di un sistema complessivo del calcio che probabilmente va riformato in Italia Ma che vedo tra l'altro anche in altri paesi, insomma, anche la Germania non ha fatto una bellissima figura E si è aperto un caso Invece vedo che ci sono altri nazionali, per esempio l'Inghilterra che ha passato un periodo buio negli anni scorsi E che oggi, invece, mostra una rinascita importante Ha ragione, l'ultima volta ci ha provato ad arrivare in fondo, però l'Italia è proprio... Esatto Io credo che l'Inghilterra abbia possibilità di arrivare molto avanti Anche di fronte a questo Brasile Però, sì Ma io, insomma, sono rimasto molto impressionato anche dall'Argentina Io vi sono messi determinato, anche perché sa che è il suo ultimo mondiale A voglia di vincere il mondiale, ma non rubiamo il mestiere a Marco Manzo che tutti i lunedì... Non mancherebbe Un saluto a Marco Esatto, un saluto a Marco che tutti i lunedì di qua Insomma, fa bene questo lavoro di spiegarci un po' come è lo sport Insomma, ci racconta con prima di tutto tutte le notizie che riguardano questo Però, insomma, Manciolini, l'ho detto prima, possiamo parlare di tutto Iniziamo a parlare di lei Allora, lei è presidente di Alia Alia sta facendo un percorso molto importante in questo momento È un percorso che, diciamo, la sta portando ad orizzonti diversi, nuovi Proprio perché prima ha parlato della Juve, di sistema, eccetera Qua invece c'è voi che state cercando di anticipare il sistema, di riformarlo, no? Sì, sotto più punti di vista Uno su quella che è l'attività specifica di Alia Ormai dall'anno scorso abbiamo Cominciato un percorso di enorme cambiamento L'idea che stiamo portando avanti è quella di trasformare Alia in un'azienda Che non sia soltanto un'azienda di smaltimento dei rifiuti Che porta via il sacchetto Ma che si faccia anche promotrice di tutte quelle che sono le buone pratiche di sostenibilità Noi abbiamo presentato ai PNRR progetti per potenziare le nostre linee di ricilio Oltre a quelle che sono le tradizionali imballaggi, carta e vetro Insomma, l'Hub del Tessi e la Prato è un progetto importante Che tra l'altro ha avuto un riconoscimento Che riconoscimento ha del PNRR? Esatto, secondo progetto a livello nazionale Vuol dire che la proposta fatta aveva effettivamente Infatti è sparito il dibattito della città, o sbaglio? Beh, diciamo Ritornerà? Ma sicuramente tornerà Però insomma, io credo che la bontà, la necessità di un impianto del genere Insomma, sia stato poi riconosciuto un po' a tutti i livelli Stessa cosa per l'impianto del recupero di elettrodomestici usati a San Donnino Insomma, un'altra piattaforma della carta a Pistoia Insomma, tutta una serie di interventi proprio Che vanno a rispondere a quelle che sono l'esigenza di cercare di recuperare il più possibile A quanto è stata differenziata in Toscana? All'Alia siamo intorno al 65% come Atocentro E quindi tra l'altro con le trasformazioni di Firenze e di Pistoia Che stanno andando avanti e che naturalmente via via che si consolidano Daranno un'enorme mano ad aumentare la media di Aton Insomma, il peso di Firenze che fino a poco tempo fa c'era il 50% Insomma, e che sta crescendo in maniera importante Noi pensiamo, vorremmo che l'Ato Centro nel 2030 fosse superarsi ampiamente il 75% di differenziata E questo è molto importante perché il 2030 è domani Il 2030 è domani e per far questo c'è bisogno di impianti Naturalmente poi rimane sempre una frazione che purtroppo va recuperata in altro modo Noi abbiamo risposto al bando della Regione Toscana Proponendo questa nuova tecnologia di rigassificazione Per la produzione poi di prodotti chimici da reimpiegare Insomma, stiamo proponendo Vede, lei Cialini è esperto evidentemente di tutto questo Vede Esperto insomma, però insomma mi ci sto applicando Insomma, presiede insomma una società che di questo si occupa Però le chiedo dal punto di vista tecnico se lei si è convinto Del fatto che l'azione politica della Regione Su cui tantissimi hanno protestato Alla destra e alla sinistra nei vari anni Si stia ora adeguando Cioè il piano che Monni ha presentato è un piano adeguato per il futuro della Toscana? Beh, penso di sì Sì, naturalmente queste sono attività che si riesce a portare avanti Se c'è davvero una condivisione Su questo bisognerebbe che ci fosse uno sforzo complessivo di tutta la politica Nel sostenere la chiusura Perché ci sono frizioni? Ma sì, ma poi insomma anche le categorie economiche Perché poi comunque vada la questione degli impianti Tutte le volte è che appena si localizza È chiaro che parte subito l'effetto NIMBI No, a casa mia Non è un problema mio E io i rifiuti di quello non gli voglio Cioè bisogna Credo Certo, a prato commento Riconquistare Esatto Riconquistare un'idea di comunità In cui i problemi si risolvono insieme E ognuno fa un suo pezzetto È difficile Ti posso assicurare Che è complicato Però insomma Questo tra l'altro nel mondo dei rifiuti Alla fin fine io parlando con tante persone Sì, ma qua, là, ma è vent'anni E c'è il problema dei rifiuti Ma perché? Perché poi alla fine noi non viviamo una situazione di disagio Nei rifiuti Di emergenza Di emergenza Perché tutti noi mettiamo il sacchetto della spazzatura fuori di casa la mattina Meno male c'è qualcuno che lo porta via Le città credo che siano Almeno, insomma, io naturalmente sono di parte Però mi sembra che ci sia Un decoro Nella tenuta delle nostre città Insomma, anche il centro di Prato È tutto Bene o male Uno telefona per farsi portare via gli ingombranti Li portiamo via gratuitamente Il taglio dell'erba È tutto Quindi, insomma E dice, è una macchina che funziona È una macchina che funziona Che va migliorata Sicuramente è tutto Però non abbiamo i cinghiali per strada No, certo Quindi non c'è questa Lo diciamo perché altrove ci sono Quindi, insomma Lasciamo fare Questo purtroppo è la realtà Quindi, insomma Però credo che anticipare Ci sono i problemi che vanno risolti Magari anticipando Infatti le chiedevo proprio questo Prato come in Toscana Probabilmente ancora più che in passato Vince chi riesce a comporre Lei diceva questa cosa di comunità Vale anche nella politica questo? Anche in generale Sicuramente Questo E chi compone? Adesso non lo chiedo Sarebbe una domanda troppo precisa Però in questa gara Di cui stavamo parlando prima Mi alza per mostrare qualcosa Insomma Di quello che già facevamo vedere In questa gara Per rifare il PD Questa gara Per ripensarlo Secondo lei Siamo di nuovo al solito schema Il centro contro la sinistra E i movimentisti contro Insomma Oppure Secondo lei c'è qualche possibilità nuova Di poter diciamo ricreare anche un Un nuovo percorso Ma sai Credo che al di là di quello che possono Ora è naturalmente il momento Dei nomi Insomma Dei posizionamenti Cioè bisogna che escano un po' i temi Che bisogna che escano un po' Anche Quella che è L'identità che si vuole dare A questo partito Il PD è nato Su determinati principi Intanto Quello di creare Una comunità Che riesce a stare insieme Al di là anche di quelle Che sono le provenienze Con degli obiettivi comuni È vero che oggi Il PD è anche un po' Spiazzato da quello Che sono gli enormi cambiamenti Nel sistema politico Il PD aveva una forte Componente data Dal sistema maggioritario Che in quegli anni Era stato Proposto Oggi è chiaro Che per esempio Con la presenza Nello scacchiere Di forze Come i Cinque Stelle Il Terzo Polo Questo è venuto un po' meno Quindi maggiormente il PD Bisogna che abbia Una sua identità Una sua idea Per non essere Cannibalizzata Proprio dicendo questo Mi ha fatto pensare Che quando lei faceva Il consigliere regionale Con merito Era il periodo Era il periodo Ci mancherebbe Era il periodo In cui c'era una leadership Forte Che era quella di Matteo Renzi E adesso questa leadership forte Si è spostata Su un altro partito Qua vediamo Calenda Ovviamente che è con lui Che ieri insomma Ha sancito la federazione Ieri l'altro Nei giorni scorsi Insomma Obiettivo Forza Italia La stiamo svuotando È possibile Insomma come dire Che il rischio maggiore Venga da lì Dal centro Anche per voi Che siete del PD E che magari Scegliete una strada riformatrice Ma guarda Io credo Nelle ultime elezioni Più che Sì sicuramente Renzi e Calenda Hanno drenato Credo che chi ha drenato Di più È stato i 5 Stelle Sono stati i 5 Stelle Forse al Al PD Proprio perché Forse mancata Una chiarezza In quella che era La proposta politica Del PD Ma insomma Questo poi lo dicono Lo dicono tutti Ora oggi magari Bisogna uscire Dai soliti slogan Anche da alcune banalità Che si sentono Ripetere E avere proprio Un'idea precisa Cosa pensa Riprecisa Ma no Guarda Si può parlare Che sia il lavoro Che sia l'ambiente Ok Su cui molte volte Insomma Mi sembra Che Siano discorsi un po' vuoti Il slogan Ma sì Insomma Giustamente Insomma Molto Molto concentrato Per esempio Sui diritti Civili Figurati Questo Tra l'altro È sempre stata Una battaglia Che Se tu vuoi Anche Matteo Renzi Ha portato avanti No senza dubbio Quindi Insomma È sempre stato Obiettivo Del PD È giusto E si Però bisogna Un po' allargare Anche nel dibattito Per esempio Oggi Con il governo Vedevo Ti ricordavi Questa cosa La discussione Sul contante Io credo Lì Il PD Deba dire Una cosa seria Una cosa Ferma Per quanto mi riguarda Io sono contrario Assolutamente A che ci sia Una liberalizzazione Del contante Insomma Qui a Prato Lo sappiamo Come funziona Il Tra l'altro Prato Secondo le statistiche È la prima città Toscana Per riciclaggio Di denaro Quindi insomma Non si va lontano Dalla Quindi su questo Ma penso per esempio Anche Un tema Che si rimanda Di continuo Una proposta Su una riforma Della giustizia Che sia seria Che sia equa Che sia veloce Che sia veloce Io credo Che bisogna Un po' Ripartire Al di là Dei temi E poi Riuscire Comunque A A far sì Che si stia Insieme Cioè Le spinte A che Qualcuno Venga invitato A uscire Gente che entra Con Con la tessera O senza tessera Insomma Un po' Di chiarezza Su questo Bisogna un po' Ho capito Che cosa Che cosa vuole dire lei Insomma È molto chiara La sua La sua posizione E insomma C'è anche questa questione Che prima però Mostravo Che è quella Della questione Della giunta Pratese Sembra che L'assessore Vannucci Insomma Possa Lasciare la giunta Tra l'altro Se dovesse essere A lui Vanno da parte nostra I migliori auguri Ci mancherebbe altro Se per motivi personali Dovesse lasciare Persona fantastica Insomma L'assessore Vannucci Sempre disponibile Però Se dovesse veramente lasciare Si aprirebbe un discorso politico Insomma Un discorso politico Che probabilmente coinvolge anche Italia Viva E appunto Il Terzo Polo Prima lei ne ha parlato giustamente Anche a Prato C'è Insomma Questa Manovra Per cercare un accordo Biffoni per esempio È una persona Che può unire in questo Ma che il sindaco Abbia dato dimostrazione In questi Ormai quasi nove anni Di unire tanti mondi Della città Nello specifico Non conosco la vicenda So che l'assessore Insomma Ma per rapporti personali Qualche difficoltà Ce l'ha Perché Per problemi di Di salute Però Non so come Quelle che saranno Le Le sue scelte Le sue scelte Però Questo credo che sia Un confronto politico Che riguarderà L'amministrazione Riguarderà Il Sicuramente Il Il partito Insomma Italia Viva È maggioranza Da 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 Tempo Se non sbaglio Svolgi Esatto È parte Solida Della maggioranza È l'unico consigliere comunale No Insomma È maggioranza attiva Anche a Palazzo Vecchio E in Regione Esatto Insomma La Regione C'è la vicepresidente Litigano un giorno Sì un giorno No Questo bisogna dirlo Insomma A Prato No A Prato Litiga A Prato A Prato A Prato A Prato A Prato Però Insomma Litigare Litigare Può essere anche Un confronto Visto come Un confronto Su quelli Che sono Le Varie Vicente Su cui poi Si trova anche Una sintesi Diciamo che Matteo Renzi In questo momento È parecchio guerrito È in corso Un vertice di maggioranza In Regione Da un paio di settimane Che ancora non si è chiuso Su tante questioni E a Palazzo Vecchio Abbiamo visto La lotta che ha fatto Nardella Ieri Ha tirato anche una battuta Veramente cattiva Nardella Durante la sua convention L'ho visto In diretta Ha detto Nardella Faccevi complimenti a Nardella Bonaccini Nardella Perché è un ottimo gregario Come per dire Insomma Voleva ancora inferire Su di lui De persone così amiche Poi Matteo Renzi E magari Vulcanico Insomma Però Sai la rinascita Di Matteo Renzi Tra l'altro Perché insomma Prima delle politiche Sembrava che dovesse Sì certo Praticamente Sparire Poi Per tutta una serie Di questioni L'accordo saltato Tra Pt e Calenda L'hanno riportato Anche In In auce Vedremo Che cosa sarà Vedremo cosa succederà Del futuro Del resto potremmo dire Lo stesso di Giuseppe Conte Che sembrava destinato Esatto A scomparire Ma sai La politica oggi Tra l'altro È talmente veloce In un anno Un anno e mezzo Cambia tutto Può cambiare Può cambiare tutto E reggeologico Anche quanto sia un bene Rispetto a una stabilità Che forse potrebbe dare Anche un modo di lavorare Migliore Si sta molto dietro Più a quello Che è il consenso Nel Nel momento Che non quella Che è la La prospettiva Che magari Sarebbe più necessaria A proposito di stabilità Adesso ci facciamo I fatti suoi I fatti suoi Che sono anche I fatti nostri Insomma Essendo Alia Una società Che ci riguarda tutti Lei Il suo mandato Scade a marzo Anzi L'aprile Però Spieghiamolo Succederà che cosa Innanzitutto c'è una data Da cerchiare Cerchiate in rosso Sul suo calendario Che è quella Del 28 Di dicembre Sì Mi risulta Allora sì In seguito all'assemblea Il percorso multi utility Credo che molti lo conoscano Insomma Il 20 di ottobre C'è stata Le assemblee Della società Che hanno Deliberato Sul processo Di Sul definitivo Processo di fusione Per la costituzione Di una società Multi servizi Aria Che è la società Incorporante Che incorpora Consiag Publi servizi E acqua toscana Cosa succede? Che Succede Una serie di realtà Sessanta giorni Perché la corte dei conti Si potesse esprimere E per un'altra serie Di adempimenti Normativi Dopodiché Si va E si formalizza E quindi abbiamo fissato L'appuntamento Dal notaio Per la firma Per la La formale Costituzione Della società Quindi da anno nuovo Esisterà Un'unica Società Cioè che è Aria Che ingloba Altra società Esatto In cui insomma C'è un processo Ora anche Per trovare Un nuovo nome Insomma I sindaci hanno chiesto Anche di avere Un percorso Partecipato Quindi non si chiamerà Più Aria Questa Allora Questa probabilmente No Aria dovrà Ricostituirsi In una Società Operativa Cioè che si occupa Esclusivamente Del quotidiano No Così come Ci sarà Publia Acqua Insomma Le funzioni Diciamo Quelle che sono definite Corporate Quelle comuni Ai vari Ambiti Saranno Tutti raccolti In un'unica Società Quindi Comincerà L'attività Della Multi-utility Con il primo Passaggio Il primo aumento Di capitale Destinato Ai soggetti Pubblici Che vorranno Conferire Le loro Partecipazioni Noi naturalmente Pensiamo A tipo All'area Senese O all'area Retina Che potrebbe conferire Le proprie Partecipazioni Che hanno In estra E quindi Consolidare Tutto l'asset E così via Insomma Altri soggetti Che potrebbero Dovare essere anche Una mossa Che altre regioni Hanno fatto In passato Ovviamente Come la Lombardia E l'Emilia-Romagna E che ovviamente Perlude a una gestione Più organica Dei servizi Più organica Noi pensiamo Anche più efficiente Naturalmente Poter gestire Da un'unica centrale Più attività Rispetto a che parcellizzarle Può sicuramente migliorare L'efficienza aziendale Ma insomma Tra l'altro L'idea di un soggetto Che possa avere spalle Più solide Permette anche Una maggior facilità Di accesso al credito Anche Sotto Anche avendo Una maggiore quantità Di credito E quindi rispondere In maniera più veloce A quelle che oggi Sono le esigenze Soprattutto di investimenti Infrastrutturali Nelle varie realtà Questo vale sia Nei rifiuti Che Nell'acqua Insomma Così in modo Da accorciare Anche i tempi Di risposta Nei vari territori In questo momento Di enorme Trasformazione Ci dicevo di Ale Per quanto riguarda Impianti Ma considera Scusate Che dal primo di gennaio Noi partiremo Con un primo nucleo Di comuni Che passeranno A tariffa Corrispettiva Ovvero Che Si pagherà La parte variabile Naturalmente In base A quello Che uno Realmente Conferisce Nel ciclo Esatto Attraverso un sistema Di riconoscimento Con tag Che Corrispondono A ogni Utenza E quindi In base All'utente Come Si attiverà Per fare Il migliore dei modi La raccolta Differenziata Nella propria abitazione Può essere riconosciuto Un vero E reale Una vera E reale Riduzione Sulla tariffa Sono circa Una decina Di comuni Che quest'anno Partono Molto interessante È quasi una Sono dati che servono Anche per l'analisi Poi tutto questo Esatto Tra l'altro Questo è legato A tutto un sistema Di trasformazione Che Alia Sta facendo Anche Nel digitalizzare Nel digitalizzare Tutti i propri servizi In modo da poter Gestire in maniera Più veloce E più Anche omogenea Possibile Su tutto il proprio territorio Tutta questa attività Quindi quest'anno Parte questa rivoluzione Della corrispettiva Poi via via Nei prossimi anni Anche gli altri comuni Se vorranno Potranno aderire Insomma Si può pensare Nel 2024 Anche di cominciare A vedere un po' Di comuni Del Pratese E questo è dimostrato Che la tariffa Corrispettiva Tra l'altro Aiuta molto Molto incentivante Anche nel 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 riuscire A aumentare Le percentuali Di Di differenziata E di conseguenza Anche di materiale Che si può recuperare Perché Differenziare Non è la stessa cosa Che recuperare È molto molto diverso Ovviamente Esatto Perché poi non c'è solo Un problema di quantità Di quello che si riesce A differenziare Ma anche di qualità Meglio si differenzia Più si può Recuperare Poi si può recuperare Poi ci vogliono Gli impianti giusti Per recuperare Gli impianti giusti Esatto Questo è ovvio Infatti si lavora Per questo Immagino Senta Due domande lampo Perché purtroppo Il tempo a nostra disposizione Sta per finire La prima è questa Si aspettava Che questo dibattito Su una multiattility Fosse alla fine Diciamo Senza Troppi intoppi Perché alla fine È andata così Si si aspettava Oppure ce ne sono stati Più di quanti Di aspettati No 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 Ma insomma Io credo Che sia giusto Che ci sia un dibattito Che sia il più aperto possibile Insomma Che da alcuni Spunti Si possa anche Migliorare Insomma Il progetto Tra l'altro Insomma È stato Sicuramente Arricchito Sicuramente Anche Il risultato Ora Mi faccia capire Ora non si può più tornare indietro Beh C'è una possibilità Ma non credo Ormai i comuni hanno deciso Le società hanno deciso Ci sono passaggi poi successivi Ancora magari non sono proprio definitivi Per esempio Quella votazione In borsa Dove si dovrà tornare Nei consigli comunali Però Insomma Io credo Che bisogna Tenere presente Quello che è Soprattutto L'obiettivo Finale Cioè Quello di cercare Di dare Un miglior servizio Ai nostri cittadini E nei tempi Più veloci Possibili Oggi purtroppo Per fare questo C'è anche un problema Di danaro Certo Che per quello Che è il sistema Attuale Insomma È più difficile Da reperire Quindi questo Noi abbiamo ritenuto Che questo sia Un sistema Che tra l'altro È consolidato In altre realtà E di cui si vedono I risultati E tra l'altro Le realtà Che già Lo Lo pratiano Sono molto Attente anche A quello Che succede In Toscana Cioè le altre Multi utility Ormai Si vede Che vedono La Toscana Quindi la scelta Non è tanto Nel rimanere In un sistema Tradizionale Essere protagonista Nel proprio Esatto Ma siamo in grado Di sviluppare Una nostra Proposta Oppure ci dobbiamo Affidare a altri Io non credo Che ci sia Oggi Una scelta Una scelta Diversa Sia che si voglia Che non lo si voglia Perché a fin fine Le dinamiche Sono queste Quello che è importante C'erano già gli occhi Hanno rivendicato E comunque Una centralità Del pubblico Nel controllo Nell'essere comunque Loro A determinare A guidare Il processo E questo dovrebbe essere Di garanzia Per le nostre comunità Assolutamente C'erano già i fari Delle altre multi-utility Sulle aziende toscane Lo sappiamo molto bene Sì ma ci sono Iren è impianta Stabilmente A gestire i rifiuti Nella Toscana del Sud Esattamente E tra l'altro Voi guardando Le altre multi-utility Potete vedere Come fanno bene le cose Ma anche come le fanno male Se hanno dei difetti Così li correggete prima Per esempio Date un nome bello Questo è l'unico consiglio Da comunicatore Che vi sento di darvi Friendly Perché ovviamente Avranno a che fare Con voi Tutte le persone Cambiano nome tutti Tranne il PD Il PD non cambia nome Il PD non cambierà Penso di no Io mi auguro di no Ti dico la verità Io da questo punto di vista Insomma Sono molto legato A quello che è Il progetto Del PD Fondativo Certo Esatto Io vorrei che Insomma Si continuasse Un po' su quella Alia forse cambia nome Ma non cambia presidente Lei A questo senti A lei piacerebbe A rimanere Alla guida Ma io devo dire Che lo faccio Con enorme soddisfazione Svolgo questo incarico In cui mi ci sono dedicato E che devo dire È anche molto Affascinante Il mondo Questo è un mondo Veramente interessante E che può dare Tante risposte Alle comunità Poi dopo di che Insomma Io sono a disposizione Ma insomma I soci sceglieranno Quella che è La La persona più adatta Per continuare A guidare Questo processo Il fatto che lei Sia a disposizione Non è poco Insomma Almeno Per noi giornalisti Che osserviamo Queste cose Insomma Ci interessano Anche queste Per capire E poi quali sono Senta Non abbiamo fatto in tempo A parlare di una cosa Molto interessante Che è Revet Che partecipate Con Alia Al 55% Però le prometto Che se torna Subito dopo le vacanze Lo facciamo Sì tra l'altro Guarda Ti dico una cosa Ti inviterei un giorno A Revet A vedere quella Che è l'attività Secondo me Sarebbe Importante Anche Veicolare Perché Revet È la realtà Che 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 Cosa fa Revet Revet Tratta tutte le raccolte Differenziate Differenziate Degli imballaggi La frazione Differenziata Degli imballaggi Della Toscana Fa circa 200.000 tonnellate Di rifiuti Li seleziona E in parte Li ricicla Anche direttamente La parte selezionata Cioè tutte le bottigliette Quelle vanno al consorzio E vengono riciclate Dall'industria Noi abbiamo delle linee Riciclo Da cui Dal residuo Della plastica Facciamo Del nuovo granulo Che poi Viene utilizzato Per nuovi Materiali Quindi Diamo nuova vita A quello Che viene scartato Nelle nostre famiglie È una realtà importante L'unica realtà In Italia Che parte Dal rifiuto Domestico E torna Alla materia prima Per produrre Manufatti Come faccio a non venire Vengo molto volentieri Nelle altre regioni Queste Queste attività Sono spezzettate Chi fa un pezzetto E poi si rivolge un altro Noi abbiamo creato Tutto il ciclo Giuro che Verrò a visitare Questo Verrò a visitare Revet Con la promessa Opposta Che lei torna Invece a parlarcene Magari Subito dopo le vacanze Insomma Grazie davvero Nicola Celini Come avete visto Abbiamo parlato Di tantissime Tantissime cose Dallo sport Alla politica Alla politica Industriale Anche insomma E dei rifiuti Di questa regione E quello che tentiamo Di fare Approfondire Le questioni della Toscana Ogni giorno Prima di tutto L'abbiamo fatto anche oggi E lo faremo anche domani Vi do appuntamento Domani alle sette e mezza Questo programma È stato offerto da Confcommercio Pistoia e Prato Scopri vantaggi di essere socio Nigro Costruzioni Creiamo spazi Costruiamo il futuro www.nigrocostruzioni.it Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti